Io innanzitutto dico che il Tsipras e il governo greco sono stati legittimamente votati dal popolo, quindi io sto sempre dalla parte del popolo che vota, dalla parte del popolo che democraticamente elegge un governo, possa piacere oppure no a quel tipo di governo, così come io ritengo lo strumento del referendum, laddove non viene abusato uno strumento di democrazia, di partecipazione, in cui il popolo viene sollecitato a decidere e quindi anche lo strumento del referendum a me è uno strumento che piace. In questa vicenda che cosa si segna? A mio avviso in maniera totalmente irreversibile, il fallimento delle politiche europee, il fallimento di quelle politiche e di quella moneta, la moneta unica che secondo gli intendimenti di chi l'ha introdotta avrebbe dovuto portare benessere, ricchezza, prosperità, sviluppo e che invece ha portato ad esempio nella vicenda greca, ma non solo nella vicenda greca, tutt'altro, io tra il rigore, l'austerità e i diktat della Troika, del Fondo Monetario Internazionale della Commissione Europea e la sofferenza, la grande sofferenza del popolo greco, ricordiamo che in Grecia ci sono 1 milione e 200 mila disoccupati, i salari sono stati tagliati del 50% e il popolo greco non ha più nemmeno le prestazioni minime sanitarie necessarie per poter far fronte alle malattie, ecco io tra questi due soggetti, tra l'austerità dell'Europa e la sofferenza del popolo greco sto dalla parte della sofferenza del popolo greco, il dato inconfutabile è che questa moneta che doveva portare prosperità, una moneta unica per 28 sistemi economici differenti, una moneta che doveva portare ricchezza sta portando esattamente al contrario e quindi la Lega che cosa diceva? La Lega diceva che nel momento in cui questa moneta sarebbe destinata al fallimento e oggi abbiamo una casa, la casa dell'Euro che sta bruciando, l'alternativa qual è? Rimanere sotto le macerie di questa casa fallita e fallimentare oppure trovare una soluzione alternativa, io credo che in questo momento indipendentemente da quello che accadrà sulla vicenda greca, un pensiero sul trovare qualcosa, un exit sul trovare qualcosa di alternativa a questa moneta, io credo che lo si imponga ai singoli governi e ai singoli paesi.